siamo venuti qui nel nostro rifugietto e abbiamo trovato una bella situazione quindi la mamma sta facendo la mamma ma la staffa proprio bene bene la mamma si è messa in posizione da mamma e i piccolini stanno a fa proprio i piccolini bene bene cioè stanno acciucciata alla mamma e la mamma nel frattempo li pulisce e li sistema perché ci hanno anche un sacco di pulcette però bisogna aspettare per poter fare il trattamento perché lei sta ancora allattando ed è bellissima sta di fatto che abbiamo deciso proprio di chiamarla bella invece i piccolini com'era i nomi non mi ricordo allora uno pupo leone leone e poi nino nino vabbè andiamo per nino quindi leone pupo e nino però dobbiamo dire di preciso chi so quindi dobbiamo aspettare però tutta sta cena qui e vabbè dai dobbiamo aspettare mamma dai piano piano adesso abbiamo tempo dobbiamo stare a casa e voi aspettate noi Also qui puedo stare a casa 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 a gusta ma lavora a casa a casa a casa